PEGI 16 Are you ready to do this? Maybe we can get up there! Okay, now we're... Thanks, BD. Thanks, BD. Let's finish this! There's no pulse! Your turn to report fatalities. This is L97240 reporting in. We've got confirmed casualties. It's the Jedi! We need a new ship on scanners. They brought more firepower than we thought. How's our hull looking? Badly damaged. We're at 70% integrity and falling. That should still be enough to stomp out these insurgents. Keep us steady. Huh? Get us! It actually worked. Okay, uh... Report! What's happening over there? You're in violation of imperial protocol... Shut that guy up. Stand down or it won't... Let's do this! That's the blasters! Whoops! That's out of the way! Whoo! 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 Hey! Who are you? Someone who just brought Nata to the table. Who are you? Someone making the empire angry. We're eventually on an imp landing pad up ahead. With my fire support. Copy that. Make him even angrier. fingers her. Go. Go. Go! Get air now! Look out! Help you! Go! Neptun, protect the guerilla fighters. Grazie a tutti. 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 No, we are not doing that again. You just wrecked a perfectly good walker. Got a name? Cal Kestis. Saul Guerrero. Cosa ti faccio a Kashyyyk? Cosa ti faccio a qualcuno. Cosa ti faccio a qui? Mi compagni e io venivano a Kashyyyk per diserruire le linee di imparso. Hey! Quindi, chi ti cercano a qui? Un uomo chieftaino di Tarful. Tarful è impossibile a trovare. C'è un motivo che ha evitato l'Empire per tanto tempo. È un lato di libero? È un lato di libero. È un lato di libero, un simbolo dei resistorsi dei Wookiee. Trazione a l'Empire da l'Empire da l'Empire. Siere, Grease, questo è Saw. Cosa ti faccio? Cosa vuoi? Cosa vuoi con Tarful? Il negozio di Tarful. Il negozio di Tarful. Il negozio di Tarful. Il negozio di Tarful. Non tutti. Ti faccio di un corpo? Il maestro mi ha dato. Il negozio di un raffinario imperiale che si tratta di un lavoro di Wookiee. Il negozio di Tarful. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Look, a workbench. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Let's try it. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. che... 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 a tutti. che... 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 You sure you want to plug into this thing? Okay. Oh, a shortcut. That's why you wanted to move this thing. You had no idea that was there, did you? You just wanted to turn that cutter on. On target! Collapse him! Cover! Over here! Yeah! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. I just heard from the captain. They're coming. Oh, this is it. At least we have the high ground. What was that? Cutter 7 is active. Reporting a live cutter near the sublots. Immediate aid requested. It's breaking through and destroying everything. Oh, this is it. No! The Jedi will be here any minute, and our reinforcements in retreat. Good. Sir, the fewer distractions, the better. Muscle, get ready! Watch out! Keep an eye on him! Make it up! Stop resisting! I am the Emperor's will. For the Empire! Traitor! Throw it! Get it! Can't get through. No guards. Hey! We're here to free you. Not long. Visitation is not committed. You're right. Take this food. Come on. Get off the leash. Make it happen. 是我 Gioca sulla console più potente nel mondo.